The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by Eye to eye They solemnly convene to make the scene Which is the name of the game Watch a guy or watch a dame on any street in town Up and down Mangiare un kid Un pire baccateria dentro Magna via il gineggio Un altro non gineggio I ciabio, il picero, il vento Una ciabia nella ciabia La ciabia nell'altra man E ciabaria tutto dentro A parire una scuenza su un asilo Una fornistoria con una torbaglieria Un doro al treno Potrei mangiare anche qualcuno di voi Mandateci il vostro monologo Grazie Colpo di scena, si pire in Pino Strabioni Un solo grande amore, ovvero il teatro Con colpo di scena Una grande passione Ringrazio la RAI RAI3 che ci dà questa possibilità Di andare alle 20.20 in un orario complicato Difficile Ma insomma, entrare nelle case degli italiani Per otto settimane Raccontando e facendoci raccontare Il teatro, la vita, il secolo trascorso Il secolo che viviamo Da otto voci immense Dario Fo, Franca Valeri, Paolo Poli, Giorgio Albertazzi, Valentina Cortese, Carlo Giuffre, Gigi Proietti, Piera degli Esposti E accanto a loro io ho voluto ascoltare le voci di altri grandi, attori più giovani Per cui ho chiesto la complicità E' una battuta, una dichiarazione ad Alessandro Gasman, ad Arturo Brachetti, a Filippo Timi, a Elena Sofia Ricci e a tanti altri E gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico dai quali sono andato E li ho fatto conoscere più da vicino questi grandi signori Se ne sono innamorati e provano a rifare i loro cavalli di battaglia Questo è colpo di scena a Rai 3 alle 20.20 Comincia a quando? Domenica, domenica primo giugno per otto domeniche Ma non ti lamentare, 20.20 la gente sta a tavola E quindi penso che lo vedrà molto più di quanto una terza serata Beh sì, io sono molto contento di questo orario E c'è l'eredità di Fabio Fazio Insomma c'era Fazio fino a domenica scorsa a quell'ora Per cui c'è un cavallo di razza E io sarò, spero almeno, un pony, un cavallino, un asinello Non lo so Di tutti questi grandi che hai nominato, e li conosciamo tutti E tu soprattutto di tutti, qual è quello che ti ha dato l'emozione maggiore? Beh non li ho registrati tutti, ancora non li ho incontrati L'emozione grande me l'ha data Dario Fo Perché grande parte dell'intervista è dedicata a Franca Rame Con la quale io avevo un rapporto di, non dico di amicizia Ma di simpatia, di tenere simpatia Paolo Poli, che considero il mio maestro Le prime due puntate ho registrato E mi aspetto tante emozioni dagli altri, da quelli che verranno Grazie Grazie Pino Grazie a te E veramente gli auguri più belli Grazie, grazie Il direttore di Ray 3 Direttore, ogni colpo è una tacca Perché vedo che gli ultimi programmi stanno andando col vento in poppa Ma soprattutto ora vogliamo parlare di teatro Di colpo di scena Perché questo è veramente il colpo delle cento pistole Beh, questo insomma è soprattutto la possibilità di far tornare un po' di teatro nella tv generalista Io penso che sia stata una grande assenza Il rapporto tra la tv e il teatro negli ultimi anni Sembrano quasi due mondi separati Questo non significa che non ci siano stati programmi Che lo hanno fatto Anche su Ray 1 Con il storia ordinario del programma E le rappresentazioni di Massimo Ranieri E degli altri Però penso che deve crearsi una maggiore sintonia Perché il teatro è un mondo pieno di talenti E se noi pensiamo alla grande televisione degli anni d'oro Degli anni del bianco e nero Di Studio 1 C'era una osmosi tra i protagonisti del teatro e la tv Che è come è venuto a mancare È come se gli spettatori che vanno al teatro Siano alcuni E quelli che vedono la tv Siano altri Mi piace l'idea che con un grande sensibile protagonista come Pino Strabioli Proviamo a colmarla questa laguna in un orario strategico In un orario importante Non in un orario secondario Perché questo programma che parte domenica Andrà in onda tutte le domeniche Praticamente nella fascia dell'Access Time Addirittura nella fascia che fino alla domenica scorsa È occupata da uno dei nostri programmi più prestigiosi Che è Che Tempo Che Fa Che pure attenzione al teatro la dà e come E anche la scoperta diciamo di tre generazioni di teatranti I mostri sacri con delle interviste esclusive Che veramente sveleranno cose mai sentite E che ritroveranno in onda protagonisti che raramente vanno in tv I nuovi attuali protagonisti del teatro Ma i giovani anche dell'Accademia Quindi un confronto fra generazioni Per quel mondo meraviglioso, fantastico Ed emozionante Che è il teatro italiano Grazie direttore Andrea Vianello È tutto il meglio come sempre Grazie mille, grazie degli auguri Guardate quanto è giovane il regista di quel po' di scena Tanto Masi E l'impegno notevolissimo Che deve aver messo per Accanto ai grandissimi attori Montare poi il giovane Sì, io sicuramente l'impegno No, io in realtà Trovo che Poter montare Diciamo I monologhi dei ragazzi Quindi la reinterpretazione dei cavalli di battaglia Dei grandi mostri del novecento Perché di fatto di questo parliamo Si ha un valore aggiunto Cioè io mi trovo in condizioni poi in montaggio Invece di potermi divertire No, io parto da questo Da un montaggio fatto anche di suggestioni E sono Forse per, diciamo L'ho nell'intimo Perché vengo da lavoro come regista e autore per Blob da dieci anni E per cui diciamo il mio linguaggio televisivo è di fatto questo E spero di essere riuscito a trovare una buona sinergia Nell'unire un linguaggio televisivo che riesca anche a spolverare Un argomento che può prestarsi a della polvere senza dubbio Magari in quell'orario per un linguaggio Per una collocazione di questo tipo Quindi una collocazione importante Un crociamolo di Dina Allora tanti tanti uomini Grazie Crepi il cacciatore Grazie 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 a tutti.